buongiorno a tutti allora felpettina e felpettina da brrr che freddo che fa tra l'altro devo chiedere venia perché ho fatto giù un macello con i titoli valdiser valgardena valgardena valdiser perché le femmine sono in valdiserre i maschi sono in valgardena e ho messo qualche gara delle femmine ho messo il titolo valgardena e invece erano in valdiserre comunque tutto a posto ho rimesso tutto a posto il video era giusto con il post esatto il problema è che ho invertito del titolo la valdiserre con la valgardena vabbè comunque ho messo tutto a posto nessun problema le gare sono precise anche perché bene registro le ricontrollo anche tramite oasport che fa degli epilogoni della gara da libidine e così almeno posso controllare le due cose poi ogni tanto non mi mettono le classifiche le vado a recuperare perché il problema di eurosport è che si divide da fa mezza gara da quello più importante fino al trentesimo trentacinquesimo numero su sky e poi devi passare su discovery rischio non ho voglia di fare anche discovery e netflix eccetera mi basta java e avanza sky dopo il resto lo recupero tramite oasport eccetera che magari c'è qualche sciatore che col 40 magari delle disce nelle discipline veloci riesce a entrare viceversa gli slalom li fanno tutti su sky una seconda manche tutti e trenta gli atleti può capitare ogni tanto che la diretta parta con il vinticinquesimo il ventesimo e quindi i primi dieci ve li vado a recuperare lo stesso comunque cerco sempre di essere preciso nei racconti ma bando alle ciance cianciano le bande andiamo a vedere come è andato lo slalom gigante maschile di alta badia prima manche riepilogone allora comanda si fa per dire visti di stacchi che sono molto molto risicati il buon febbre con due centesimi di vantaggio su odermatt e 30 centesimi su pazzerello feller molto bene dei aliprandini quinto con vista podio a 53 centesimi di ritardo da febbre mentre sfortunati borsotti e tonetti perché il il buon borsotti è inforcato quando ormai era sul traguardo sull'ultima porta mi va a inforcare certo avrebbe avuto un distacco intorno all'170 però sarebbe stato dentro sarebbe partito probabilmente intorno alla ventesima ventesima ventiduesima ventitresima posizione avrebbe potuto recuperare qualche posizioncella magari e prendere qualche punticino viceversa tonetti stava scendendo giù a cannone aveva anche un ottimo intermedio il secondo intermedio era libidino non era in luce verde però non era lontanissimo dai primi poteva arrivare con un distacco di un secondino magari anche meno dal primo quindi entrare in zona bella libidinosa dei 15 o magari anche nei 10 e invece ha toccato con lo scarpone gli è scivolato lo sci ha dato troppo largo non è assaltato una porta e poi è andato verso il muro del pianto c'era la recensione iniziato perché ha capito che stava facendo una gran bella gara in ogni caso sarà una seconda manche tutta da vivere visto che dal primo al decimo ci sono solo 71 centesimi e tra il primo e il trentesimo ci sono due secondi quindi siamo belli stretti stretti tutti vicini vicini quindi in un batter d'occhio si può perdere tutto o recuperare tutto comunque la classifica dopo la prima masch nello slalom gigante di alta badia vede fevra al primo posto o del mate secondo feller e terzo radamus e quarto dell'iprandini e quinto zupcic e sesto christophersen e settimo burisi e ottavo pinturo e nono e il buon camiezel e decimo mettiamola qua che poi potrebbe essere utile andiamo a vedere com'è andata alla seconda manche il primo a scendere roegrin 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 vediamo quale sarà il suo tempo finale se riuscirà a recuperare qualche posizioncella il suo tempo finale 2 26 e 82 tocca a me grat una buona seconda manche era ventinovesimo dopo la prima e con quattro centesimi di no scusate ecco non aveva quattro centesimi di vantaggio e però fa giù va giù al cannone si prende il primo posto con la bellezza di 75 centesimi di vantaggio allora come dico sempre i casi sono due ora ha fatto una garetta quindi si è accontentato di arrivare giù e portarsi a casa il punticino quello che viene oppure il buon mcgraf ha fatto il garone adesso lo vedremo perché quando gli stacchi cominciano a essere così tostevoli tocca a first time 27esimo dopo la prima manche vantaggio di 17 centesimi sullo sciatore norvegese una bella gara si prende a sua volta al primo posto con 45 centesimi di vantaggio ma ne aveva ben 74 al secondo intermedio vedremo se questi 30 centesimi più o meno che ha perso dal secondo intermedio ad arrivare giù gli costeranno qualcosa comunque ha fatto una gran gara ma soprattutto vedremo se il buon mcgraf ha fatto a sua volta una gran gara sembrerebbe sì sì perché per ora nessuno è riuscito a stare davanti al buon first time first time first time e tocca al nostro filippo della vite ventunesimo dopo la prima manche vantaggio di soli 25 centesimi purtroppo dopo il secondo intermedio tocca con lo scarpone non riesce a stare nel tracciato però è piaciuto perché è sceso giù non per accontentarsi ma c'è per cercare di fare la manche ed è così che devono fare perché se ti accontenti poi arrivi trentesimo eccetera e sì hai fatto il tuo punticino però la classifica non la sclali signori 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 è clamoroso first time è ancora primo e tocca a christophersen che era settimo settimo dopo la prima manche rendetevi conto quanto ha recuperato first time era ventisettesimo male che vada sarà ottavo ha recuperato già 19 posizioni adesso tocca a christophersen che ha un bel vantaggio su sul buon first time provare a stargli davanti a un secondo e 24 attenzione un secondo e 24 è tantissimo però anche gli altri che avevano più di un secondo sull'austriaco non sono riusciti a stargli davanti neppure pinturo vediamo se ci riesce il buon christophersen e ce la fa però il suo vantaggio è di soli 58 centesimi vedremo adesso cosa combineranno i primi sei però signori miei aveva un secondo e 24 di vantaggio ne ha persi praticamente 68 68 centesimi il buon first time ha dato 68 centesimi a uno come christophersen rendetevi conto che garona ha fatto e che cosa vuol dire partire con i pettorali bassi nella seconda manche e poi vi dirò una cosettina successiva sempre sullo sci una piccola escamotage diciamo no pensiero dai diciamo un pensiero comunque il numero sei non riesce a stare davanti al buon christophersen ci prova il nostro dei aliprandini quinto dopo la prima manche vantaggio di soli 4 centesimi sul norvegese ahimè è solo terzo con un botto di ritardo di ben 69 centesimi mannaggia mannaggia però dai male che vada sarà settimo può andare bene lo stesso e nei 10 bello tranquillo eccetera tocca a fell perché è anche il quarto che era il buon radamus è rimasto dietro tocca a feller terzo dopo la prima manche vantaggio di 38 centesimi sul norvegese sapete che feller è pazzarello quindi è capace di tutto capace di scendere giù e raddoppiare il vantaggio è capace di cadere è capace di finire dietro di un botto diciamo che è stato pazzarello ma non troppo e alla fine secondo con 37 centesimi di ritardo e quindi christophersen è automaticamente sul podio e fellstein recupera già 22 posizioni perché è male che vada ne mancano solo due lui questo momento è terzo quindi arriverà massimo al quinto posto era 27esimo quindi sono 22 posizioni recuperata tocca a odermatt secondo dopo la prima masce vantaggio di 55 centesimi sul buon christophersen anche odermatt ma forse perché comunque ha pensato pinturo è dietro perché rischiare vado giù prendo i miei miei punti su sul buon pinturo che mi valgono per la classifica disegno mondiale per la coppa generale non rischio e guadagno un po di punti infatti è secondo con 31 centesimi di ritardo e adesso tra christophersen nella vittoria c'è solo il buon febvre bene 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 scende febvre vantaggio molto importante tra virgolette perché anche il buon odermatt ha perso più di 80 centesimi da christophersen vediamo cosa combina lo sciatore francese purtroppo subito in luce rossa già dal primo intermedio e clamorosamente signori è sedicesimo con un ritardo di 1 e 26 come vi dico sempre tra la prima e la seconda manche c'è un abisso spesso e volentieri cioè quello che magari è primo magari o per la tensione o per per la paura o perché magari preferisce scendere tranquillo e spera di gestire il vantaggio invece non lo gestisce per nulla e succedono queste cose qui era primo della prima manche finisce sedicesimo addirittura fuori dai quindici clamoroso e quindi christophersen zitto zitto vince il gigante dell'alta badia davanti a odermatt davanti al buon feller che conferma la sua terza posizione odermatt conferma la sua seconda christophersen guadagna sei posizioni da settimo diventa primo feoste più 23 più 23 poi vi dirò una cosa che vi devo dire da un po che c'è questo appuntino qua sullo sci che volevo far notare o meglio l'ha scritto un altro però una cosa giusta da far notare perché una volta era diverso de aliprandini conferma la quinta posizione quindi senza infamia senza l'odern zitto zitto cacchio cacchio un bel quinto posto però manca sempre il podio in coppa del mondo ha preso la medaglia d'argento non so se era l'olimpiade o il mondiale ma ha preso la medaglia d'argento e però non è ancora salito sul podio in coppa del mondo radamus è sesto ha perso poco anzi ha recuperato il bono ha perso due posizioni ma va bene burzi è settimo windista anche lui ha recuperato qualche bella posizioncella zupci c'è nono e brestein era e decimo con un bel più nove un altro sciatore che ha recuperato un botto di posizioni e mcgrà ventinovesimo dopo la prima manche e dodicesimo alla fine quindi vedete che aveva partire ventinovesimo trentesimo ventisettesimo poi recuperare un botto di posizioni perché sfrutti la pista che è in tonsa bella blinscia pulita eccetera eccetera e puoi fare il garone poi dipende da sciatore a sciatore ci sono quelli che binghia mi sono qualificato miracolo vediamo di arrivare in fondo che magari prendo qualche bundicino e ci sono quelli che dicono che me frega arrivare ventottesimo uscire non mi cambia la vita proviamo ad andare giù a mille e se va bene faccio first e recupero un botto di posizione anche me lo stesso mcgrà che è entrato nei 15 detto questo ragazzoli io vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao